Dipende con chi sbattere dipende Perché tipo con Ezreal puoi andare su puoi comprarti un item a d cos'è all'inizio c'è la d Tipo che ne so compri il cal c'è i danni adattivi in a d e farmi più facilmente la q fa più danno e poi Compri la lì ci bene ti passa tutto nella p quindi realtà è worth Ha si un support full ap sbattere quel punto lì non so che dire Not dorans così Che sto dicendo Allora tu con cosa starti con il dorans ring Aspettavo te ah io parto con l'oggetto da No lo spelti e anche di fermare te bro io prendo lo spelti devi fermare te si prendi il dorans ring e spacchiamogli il culo dai Fidati fidati Oggi c'è coaching su come trollare ragazzi vi insegnerò come trollare Ti piace come piano mi ha chiesto che piani avevamo io glielo ho specificato Senza l'ospe non si fa nulla madonna senza l'ospe ragazzi and dare la colpa a drink E che trovare le sceni una volta oltre un lato in segreta con uno dc dicendo che a new me sono cascata e fino a fatto di città e the god o wow Passa di qua anzi no cazzo di qua vieni vieni andiamo 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 dove siete no tanto hanno pullato quindi poco male Sì Ah brava calista pozza di mana è buono Va bravo A casa Hai capito come funziona Bravo grazie regà date oh sti danni qua i minion tutti i minion Boom E mo stanno indietro ragazzi Però qua mi sta sganciando un bel po' di soldi Vai farma farma Aia E che i minion mi tolgono un sacco di vita Guardali guardali Oh no non è tornato indietro Ah full hp Ecco danni entrambi Esatto 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 vedo che hai capito Guarda calista guardala Lì sto spaccando Ah hanno fatto il patto hanno fatto il patto lì Ma perché non hai preso il carretto Met ma Pensavo volessi andarci Gli ho tirato la kumit relic dal patto Trasblood nostra Per niente male La presa murvik tra l'altro Quindi è good Vabbè Il loro jungler è mundo Quindi Ganca un po' a culo Grazie bro Mate come si è ammessi qua Bene bene Calista attacca da ferma Mamma mia quante pozze Regà ma c'ho l'inventario pieno Con Ezra è abbastanza facile Dovete semplicemente beccare gli skillshot Una volta che beccate gli skillshot È easy La maggior parte Non per forza tutti Aspetta Vabbè questa ward la tengo per adesso Sti cazzo Ecco un'altra palla di neve A casa Metz è sempre full mana Ma quanto è sbilanciato Nuno col mana La maestria lì Ho visto ho visto Non farmalo più Basta Calista 18 minion Vabbè che anche tu sei lì Però tu sei Nuno Ah sta stando alla dieta Io non ho di Allora Uh Lean Aspetta aspetta Qua devo andare di pozza Anche la sacchetta qua Qua tiriamo un punto Olè Madonna mate Ho rischiato tantissimo Se mi grabbava ero morto Beh avevo gli L No non bastava Sotto torre col cazzo Aspetta potrebbe Oh sto creep lock qua Ecco fatto Mate push Mate dobbiamo fargli arrivare la wheel sotto torre Sono andati back Allora ci sto Ci sto Andiamo back anche noi Sì Allora io non posso fare Perfetto Hai fatto goal Fieri che master 78 Oh è questo? Oh c'è No no mate Eh non potevo Avevo troppo poca vita Vabbè tranqui tranqui Eh tanto ti becca per forza Unlucky Sì questa qua si scappea fuori Addio boh Che è la sto profilo Gold 4 Mi sono registrato a quell'orba che spamma Chichobot Ma che è? Adesso non ho voglia di spiegarla Un giorno giuro che te la spiegherò Comunque una nuova criptovaluta Se conosci bitcoin Sai già di cosa sto parlando Se non li conosci Vuol dire che vivi in un altro pianeta Probabilmente I miei danni bilanciati Ok ci abbiamo VV qua Bene se vuole venire Guarda dove giocano Non giocano Vabbè Frizza 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 Tanto loro non sa Nemmeno l'exp vogliono C'è qualcuno qui dentro? No Inter gara Stiamo giocando da soli Non lo so No mate Su calista Su calista Su calista Ok Lo killi Secondo me C'è vv Trinna e Va bene lo stesso Dai Caccio i soldi 60 gold Va bene va bene Abbiamo fatto un buon trade E via così I banes sono di Bologna Anche se diciamo Ho fatto di tutto Per togliere il mio accento Visto che Non mi piace Come parlavo prima La classica S e Z Bolognese E quindi non si sente molto V-V-V-V-V-V-C Cos'è in cursore? Non lo so Non conosco Solo grazie ai tuoi troll Grazie Fujio Lo so che a te piace Ezra Mi ricordo Me l'hai detto diverse volte Arrivo 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 Bella siamo vicini Ta invece dove sei? Che hai detto che siamo vicini No Pensò saltasse all'indietro Ogni volta Incredibile Vai qua easy proprio Lì era proprio easy No 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 C'è anche il macellaio Non può far nulla Non può far nulla Aspetta che mi sto rifullando Che ho usato tutto Eh via Potrebbe tornare il mondo da dietro Sei tu la di carry Fisicamente sì te Fisicamente non vuol dire niente Togliamo questa Abbiamo base eh Come vuoi fare? Bombare Togliamo questa Ecco cosa voglio fare Quindi pushiamo anche questa Sì 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 Per così mi stacco un po' la ulti con la Q Ehi come ti permetti Base Nice In realtà non ho nulla da comprare Vuoi rimanere Stai 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 Che schifo che ho fatto Mio dio Buono buono Aspetta Vai bro Eh Ah c'ho la pozza Buono Ok Ok C'ho anche il biscotto Bella Si rimane un sacco qua Sustain infinito Bella mastery Madonna che pelo che l'ho fatto Aspetta che adesso Un lucky Buono Un po' di danni li faccio Considera che sono ancora indietro Eh Ah che cazzo No 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 Oh buono 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 Bello bello Buonissimo cazzo Perfettissimo Serve quel carretto Chi è aspetta E rides via Ok Ha ragione anche lui Ah pardono non ti ho preso C'ho l'exhaust Va bene Una trottola Holy fuck Aia Peccato Pensavo Lo shottassi di più Invece ha cacciato quel muro lì Che era comunque Ride 0-4 Notato Bella Allora Direi che vendo La pozza di mana Cazzo Non posso farmi illudence Il biscotto Eh non costa un cazzo Il biscotto Eh ti hanno preso la torre Eh bro Che ti devo dire Va bene Non è un problema No infatti Cioè non è che ci possiamo Far più di tanto Sono venuti a fare La clown fiesta Fatti la leech No 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 Vi voglio far vedere La build Con cui ho iniziato A trollare Con questo champion La build originale Dello La build originale Dell'HeadsFullHapista Stai lì Dai fastidio Non è il rush Di Mejai Alla CBHD Non quando sono 1 o 2 Non c'è nessuno Ah eccoli Io sto in botta A farmare Intanto Tanto Sì sì Tutti raggiù la torre Mi vado mid Uh peccato Eh ma arrivano tutti Sapeva che c'era Il mondo Il mondo lì Vabbè Poco male Posso fare qualcosa Se vado lì in top Sì Assolutamente Fuck Sacco di merda Presa Bitch E anche Riven Prende trash Buono 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 Gliel'ho anche lasciata Usciamo sta cazzo Di top Dai Dopo Adò prendermi Ludens E via Che c'è Rhydes Ma noi sfondiamo tutti Prega niente Noi Ah le scarpe Potenziate Via Ok Buono Il po' di mana Che poi si è attivata Subito Ecco fatto Abbiamo preso La top Vado back Prendo Luden Oh Brutto Oh no Invece l'ha fatta Buono Rezza flashato Perfetto Lo gioco con l'alice Sì ma Zork Non è sbagliato Anzi Molto forte Però ti voglio far vedere La build Quella che Facevo tanto tempo fa C'è la build Con la quale ho iniziato Trollare Su Ezreal Vai vai Spaccatelo Digli che non si Permetta più Perfetto Non si è mosso Non si è mosso Di un millimetro L'oso Via Non si è qua Lux vuole partecipare C'è C'è Yasuo qua Ok Yasuo Ah ok Eccolo lì Thresh Dov'è? E la Madonna Che cattiveria Non ho voluto mettere Eh Vai ho messo l'exhaust Eh Bitch Oh cazzo Mamma mia Il one shot Oh cazzo Non si c'è Thresh No Arrivo 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 Non ci ha capito Un cazzo Fidati di me C'è Warwick Lascio un inferno al bellino Bellino Andiamo a prendercelo Oh mio dio Il one shot Quello vero Oh cazzo Vabbè ho anche 2000 di oro Quindi Ai 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 Brottino Sto miss Mi lamento Mette Quanto cazzo Sto triardando Boom Ma io sto in chill Mod Totalmente Cazzo Ok E la Madonna Era la calista Quella Meno male che L'abbiamo L'abbiamo mandata In top lane Meno male Cazzo Che l'abbiamo Mandata in top lane Magari E' brava anche La calista Eh però Noi siamo più bravi C'è poco da fare Ok Becchiamo Perché Ho la cur Di Ezbo Applicare L'uden Fino a quanto Che mi sa Non faceva se non sbaglio Davvero Non ci ho fatto caso Può essere Dopo ci guardiamo meglio La pozza La do via Mi prendo anche questa Perfetto Ah non c'è Ancora il Nash Ora Ah ok Eh siamo a minuto 18 Che rank è? Gold 4 ragazzi Ho fatto caso adesso Adesso nameless Vediamo Aspetta che tirano a qua Questi È vero È vero Una volta non c'era Lo so perché Lo gioco da una vita Ez full AP Quindi Ti confermo Cazzo Mette L'hai così confuso Che non ci ha capito un cazzo Senza ho pesciasse di là Aspetta non devo farmi vedere Da cosa Mentre tiro la ulti Che se no me la pare Ecco Aiuto no Brava Parecchio resistente ragazzi Ah Lux ragazzi 1265 Rabadon Vabbè Unstoppable Cioè che poi non è sbagliato Cioè alla fine la cune Ok Applica gli effetti attacchi base Ma non vuol dire che non sia una skill Ma lo son perso Mate è 1-7 Poveretto Tirato Tirato lei a Ryze Quello che ho vinto è scappato E C'è rimasto secco Dalla Comet Bella blindato E' stato bello gasato Oh cazzo Vai scappa Scappa Io ti caccio la ulti Spacco la faccia Unlucky Me l'ha spaccata lui Bella Sir Dext Ah mi hai dovuto grattare il culo Cazzo Cazzo Diamo un po' Alla fine Magic C'era soltanto Mondo e un pochino Trash Però il mondo non faccio Veramente da anni Però sti cazzi Cioè alla fine è meglio Rely qua Ciao Shift Bella Sniper Kira Come va? Rely Rimasto che lo applicava Quando c'era oggetto blu Per la giungla Trasformava Ah sì sì Mi ricordo È vero Oh ma alla fine Sì Mi ricordo che era così Però alla fine se ci pensate Cioè è pur sempre Una spell Che applica gli effetti Attacchi base Quindi Non ha senso che non lo crocchi Quindi o meglio così Meglio così Andiamo a nascere Andiamo a nascere Sì sì assolutamente Bella Larsi Sì Vedete ragà L'Attack Speed Lo sto bullizzando Poveretto Sto granchio Dovrei prendere Rhydes Olè E Rhydes è già da casa Arrogo Arrogo Bruciatelo Eh la madonna Questo che cazzo è Demacia Cos'è che fa sta roba 15 attack damage Per 45 Per 90 second Based on level Ah buono buono cazzo Cazzo la metto qua Appena inizia Appena fightiamo un po' Pretty good Sì è arrivato diamante Amante Oh mio dio Oh mio dio Abbiamo cucettato Ah ho missato la W Purtroppo Pretty lucky Allora appena inizia Ah botta cosa sta succedendo Rhyperoni in peperoni Vieni 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 No c'è anche Rhydes C'è appena Avrò appena guardato Quei mini Però manco guarda Nice Buono Eh GG Easy raga Ecco fatto A casa tutti Forza A casa A diamond regalo Ho fatto A gennaio Appena iniziata Season 7 Poi non l'ho più fatto Mostro plot 2 Ma Voglio trollare Voglio divertirmi Sti cazzi del 3 yard O del diamond Ah Mi mancava Una troll bot Così mi mancava Sono in promo Per il gold 3 mate Stupid team Team Mate Sfurti se non era Yasuo A flammare il team Come poteva non essere Yasuo A flammare il team Come poteva non essere lui Ragazzi chi poteva essere se non Yasuo A flammare il team Top damage 28 Wow Eh bro The god I feel like bronze Man that low health fights made me kinda I mean the I feel like this is the only thing that we've made me try to do